Dicevo un vecchio discorrano, l'uletta come te li finti ci addurmo, cercate di farvi un belletto, gli ho detto chiaramente che voglio collaborare, voglio fare, voglio mettere a disposizione tutto quello che ho, la mia esperienza, il lavoro, l'impegno, se volete anche un pizzico di fantasia e di intelligenza a disposizione di questa comunità. Io potrei dire se fossi una persona egoistica non vatici vincere le elezioni, così io faccio solo il senatore e mi riposo, invece no, io dico a voi che abbiamo bisogno di stare insieme ancora per tanti anni perché questo paese continua a crescere. Che il Signore vi aiuti e vi illumini a votare la lista numero uno Castilente Unito per un progresso solidario. Saluto a tutti e grazie. 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 Grazie.